La Provolley Team vince e vole in testa la classifica. Dopo il 3-1 conquistato in casa, con lo stesso risultato le ragazze di Coach Cutrona battono Brindisi e si piazzano al top. Un successo è arrivato in maniera chiara, pulita. A tratti si è vista la migliore PVT della stagione. Per il secondo turno consecutivo la capolista esce battuta da Modica, dopo che Pedara aveva perso lo scettro 15 giorni fa. Dopo i primi due punti, i pugliesi, la PVT entra in partita conquistando un 8-0 grazie a un buon turno in battuta di Cianflone. Le Biancorosse provano la fuga, ma Brindisi ha la forza e il carattere per non lasciarsi andare. Arriva la nuova accelerata delle padroni di casa, particolarmente concentrate nel match. È un duello tra due delle migliori liberi del campionato, Vittorio e Natali, che in avvio di secondo set si rendono protagoniste di alcuni salvataggi spettacolari, uno dei quali di Vittorio vale il punto dell'8-6. C'è molto equilibrio in questo secondo parziale. Daniela Cianflone è particolarmente ispirata e Mercanti regala sprazzi di grande classe in più di un'occasione. Terzo sette e Brindisi per la prima volta avanti ad un tecnico grazie soprattutto agli errori in recezione della parte modicana. La squadra vista nei primi due parziali sembra patire la situazione. Cutrone è costretto a chiamare tempo sul 6-11. La PVT ha il merito di crederci sempre, ma lo svantaggio accumulato inizio set pesa come un macigno. Un tocco di richiuti regala il setta a Brindisi, 25-21, ma nel quarto set si riaccende l'entusiasmo della PVT, con Piscopo che attacca senza sosta le avversarie. Gli ultimi minuti sono una passerella per le Biancorosse. Chiude la contesa un attacco di Alessia Corallo, che riporta la PVT in cima alla classifica, dopo qualche settimana di interregno delle altre pretendenti alla promozione.